Tre chilometri di lamentele e speranze per il futuro. Scorrono lungo la strada della Mussina, una via comunale che collega i Baccari al Montale, le rivendicazioni dei cittadini, illuminazione pubblica, rifacimento del guardrail, allargamento della carreggiata e soprattutto realizzazione di una pista ciclabile sicura. A elencarle sono Cesare Fadde e Giuseppe Foletti, referenti del Comitato Civico di Baccari, che hanno inviato una lettera, l'ultima di una lunga serie, all'amministrazione comunale per chiedere un pacchetto di interventi sull'importante arteria nel circondario sud-est di Piacenza. In buona sostanza, gli abitanti si sono appellati a Palazzo Mercanti per ottenere la risoluzione di alcune criticità annose, a partire dal parapetto del canale. La preghiera, prima di tutto, è ormai faticente, impraticabile e pericolosa. Poi c'è la curva che va allargata insieme all'ampliamento della strada ed è senza illuminazione. Sono due curve pericolose. I referenti del Comitato hanno denunciato anche la scarsa visibilità delle due curve consecutive che, a detta loro, potrebbe essere risolta abbassando di due o tre metri la parte superiore della dunetta ai bordi della carreggiata, posta su terreno privato. Spostandosi all'interno della frazione, invece, i cittadini di Baccari hanno lamentato le dimensioni troppo strette di via Rocci. Le file di veicoli posteggiati davanti alle abitazioni e il passaggio del pullman determinano spesso ingorghi viabilistici. Il pullman passa tutte le ore, ci sono le macchine in sosta e dovrebbe essere allargata la strada e intubbato il canale.